Buongiorno a tutti, benvenuti dal vostro Andrea al Matematico in questa nuova lezione di statistica in cui andiamo a parlare della parte delle probabilità relative alla distribuzione di Poisson. Cominciamo col dare una definizione alla distribuzione di Poisson che si utilizza, in pratica è una variabile casuale discreta che ha media e varianze identiche, questo è un aspetto molto importante e si utilizza per calcolare la probabilità che un certo evento si manifesti esattamente x volte in una certa unità spazio-temporale. Adesso facciamo un pochino di chiarezza in questa definizione. Esempi tipici dell'applicazione appunto della distribuzione di Poisson sono ad esempio le chiamate in un call center, quindi ad esempio il numero di chiamate in un call center ad esempio all'ora, ogni due ore, in mezzo a mattinata e così via, le persone che ad esempio entrano in un negozio in una data unità temporale, oppure mi piace pensare a eventi sportivi come i gol segnati ad esempio da un calciatore. Un elemento essenziale dunque per poter diciamo riconoscere dal testo che possiamo utilizzare la variabile casuale di Poisson è l'unità spazio-temporale. Ad esempio se leggiamo questo testo in un call center, chiamano sei persone all'ora, vedete che l'ora diventa un'unità temporale importante, l'unità diciamo spaziale è ricoperta dal call center perché quindi è un'unità spazio-temporale nel senso che lo spazio è all'interno del call center e il tempo diciamo è il temporario. Oppure pensate a un testo in cui diciamo in un negozio entrano dieci persone durante una mattinata, specificando che la mattinata dura quattro ore e quindi a questo punto l'unità spazio-temporale è la mattinata ovviamente quella spaziale sarebbe il negozio. Oppure il giocatore Ibrahimovic segna 20 gol all'anno quindi immaginando che appunto l'anno siano 24 partite quindi l'unità temporale appunto sono l'anno e le 24 partite ovviamente in un certo campo quindi in una certa anche unità spaziale. La caratteristica della distribuzione di Poisson è proprio il fatto che la media e la varianza coincidono quindi chiameremo questa media e chiameremo questa varianza il lambda quindi il nostro lambda è una lettera greca insomma si utilizza diciamo per la maggiore quindi utilizziamo anche noi questa simbologia questo lambda diciamo è possiamo dire il numero medio di volte in cui si manifesta l'evento in quella data unità spazio-temporale ma non solo è un numero medio all'interno della distribuzione assume anche diciamo la sembianza di varianza. Capite dunque che c'è una stretta associazione una stretta connessione tra il lambda quindi il valore medio di volte che poi è anche la varianza in cui si verifica la nostra mediamente appunto il nostro evento e l'unità spazio-temporale che per semplicità abbiamo l'abbiamo chiamata t. Quindi rileggendo meglio il testo quindi in un call center chiamano sei persone all'ora ovviamente l'ora e il call center sarebbero quindi l'unità spaziale le sei persone che entrano quindi quel numero sei è proprio il nostro lambda cioè è il numero di volte in cui l'evento si manifesta all'interno di quell'unità spazio-temporale. In un negozio entrano dieci persone in una mattinata appunto quel dieci è il nostro lambda la mattinata e appunto il tempo Ibrahimovic segna 20 gol all'anno quindi sicuramente il 20 che appunto è un numero che è associato diciamo all'unità anno cioè alle 24 partite. Ovviamente se andiamo a modificare l'unità spazio-temporale dobbiamo anche modificare il lambda ovvero il numero medio che poi è anche varianza di questa distribuzione quindi se partiamo dal testo in un call center chiamano sei persone all'ora e quindi andiamo a modificare l'unità ad esempio temporale e diciamo quindi in due ore ovviamente se in sei ore entrano mediamente cioè se scusate se in un'ora entrano mediamente sei persone nel doppio del tempo quindi in due ore entreranno mediamente il doppio delle persone quindi 12 persone quindi se quadruplichiamo l'ora ovviamente dobbiamo quadruplicare anche lambda quindi 24 persone in quattro ore se dimezziamo ad esempio l'unità temporale quindi dall'ora passiamo alla mezz'ora vuol dire che dovremo dimezzare anche il nostro lambda che diventerà 3. Per poter applicare Poisson e quindi procedere al calcolo della probabilità serve appunto applicare una formula quindi p con x ovvero la probabilità che l'evento preso in considerazione quindi di media abbiamo detto lambda e varianza lambda si verifichi esattamente x volte useremo questa formula appunto che sarebbe elevato alla meno lambda dove e sarebbe il numero di nepero che vale 281 82 all'incirca poi un numero irrazionale di infinite cifre elevato alla meno lambda ovvero almeno valore medio tutto che moltiplica lambda ovvero la nostra media elevata alla x su x fattoriale quindi p con x è uguale a e alla meno lambda per lambda alla x su x fattoriale ovviamente in questo caso la variabile casuale x che stiamo prendendo in considerazione è praticamente il numero di volte in cui vogliamo calcolare la probabilità che si manifesti diciamo l'evento in quella tal situazione è un numero che è un numero intero che parte da zero e non ha limiti superiori quindi assume potenzialmente tutti i numeri naturali poi ci saranno alcuni numeri che saranno effettivamente sensati per quello che stiamo calcolando e altri numeri invece che saranno più insensati procediamo con un esempio pratico quindi è un esempio sportivo siccome sono milanista mi sono permesso diciamo di fare questo esempio diciamo calcistico sappiamo che il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic è in grado di segnare mediamente 20 gol nell'arco di una stagione ipotizzando che una stagione duri 24 partite qual è la probabilità che nelle prossime 6 partite giocate ovviamente dal giocatore segni cioè Zlatan Ibrahimovic segni esattamente 6 gol partiamo subito dai dati che abbiamo a disposizione quindi il diciamo il nostro lambda che sarebbe quindi il numero medio di gol segnato da Ibrahimovic è ovviamente 20 riferito a che cosa all'unità spazio temporale in questo caso è più temporale possiamo dire così che è una stagione dalla diciamo durata di 24 partite ovviamente siccome il testo ci chiede qual è la probabilità che Zlatan nelle prossime 6 partite segni un certo numero di gol a questo punto dobbiamo adeguare lambda cioè se mediamente il giocatore segna in 24 partite 20 gol vuol dire che in 6 partite che sono in pratica un quarto di stagione segnerà un quarto dei gol mediamente quindi un quarto di 20 o 20 diviso 4 fa 5 questo 5 sarà il nostro nuovo lambda appunto riferito a questa nuova unità spazio temporale che andremo ad applicare poi nella formula per il calcolo della probabilità ora passiamo ai calcoli quindi vogliamo calcolare la probabilità che il giocatore Zlatan segni 6 gol nelle prossime appunto nel prossimo quarto di stagione nelle prossime 6 partite quindi applichiamo la formula vista in precedenza p con x uguale a alla meno lambda per lambda la x su x fattoriale ovviamente al posto del lambda inseriremo 5 che è il numero medio di gol in 6 partite e al posto appunto di x metteremo 6 che è il numero di gol che noi vogliamo che segni e quindi vogliamo calcolare la probabilità che segni esattamente 6 gol quindi p con 6 sarebbe e alla meno lambda cioè e alla meno 5 per lambda la x ovvero 5 alla sesta su x fattoriale ovvero 6 fattoriale andiamo a calcolarlo che è 0,1462 ovvero il 14,62 per cento per calcolare questa probabilità con excel il discorso è molto semplice basterà mettere in due celle separate il nostro lambda da un lato ad esempio 5 e il nostro x dall'altro nel nostro caso quindi la x è uguale a 6 e a questo punto andare semplicemente ad inserire la formula uguale a distrib.poisson aperta parentesi tonda prima cosa andiamo a cliccare praticamente sul valore della x di cui appunto vogliamo il numero di gol di cui vogliamo calcolare la probabilità che è 6 punto e virgola poi andremo a inserire la media della distribuzione che è lambda e poi andremo a fare punto e virgola falso utilizziamo falso perché altrimenti la probabilità verrebbe cumulata e noi non la vogliamo cumulata ma la vogliamo esattamente alla pari al 6. A questo punto possiamo andare a calcolare i valori per costruire sostanzialmente tutta la funzione di distribuzione di probabilità quindi in pratica dobbiamo semplicemente riapplicare la stessa formula p con x uguale a e alla meno lambda per lambda alla x su x fattoriale ovviamente riferito sempre alle prossime 6 partite e quindi andando a inserire il lambda che sarà sempre fisso pari a 5 e poi andare a sostituire al posto della x tutti tra virgolette i possibili valori che appunto il numero di gol potrebbe assumere. Ora siccome non riusciamo a calcolarli tutti perché è infinito magari arriviamo a un valore decente 10 11 12 13 15 al massimo potremo arrivare e quindi andremo a calcolare p con 0 ovvero e alla meno 5 per 5 alla 0 su 0 fattoriale p con 1 cioè e alla meno 5 per 5 alla 1 frutto 1 fattoriale e così via vedete che qua sotto vi ho riportato il grafico quindi col valore della variabile casuale x appunto questo l'ho costruito su excel per semplificare i conti in questo caso ho calcolato da 0 a 14 il valore della x mentre p con x applicando ogni volta appunto uguale a distri punto poisson poi vado a selezionarlo 0 la x esistono dei modi per fissare comunque le celle e rendere più veloce il tutto andiamo a calcolarci quindi le rispettive probabilità poi con excel basterà selezionare insomma questi dati fare inserisci grafici consigliati e il primo grafico consigliato che vi darà sarà questo che appunto indica la distribuzione di poisson nel caso in cui lambda sia uguale a 5 e quindi nel caso specifico la probabilità che zlatan non segni gol né segni 1 né segni 2 né segni 3 potenzialmente potremmo arrivare all'infinito ma vedete che già dopo il 13 o 14 praticamente la probabilità sia nulla bene cari amici che dire se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale youtube ma soprattutto se volete approfondire di più sulla distribuzione di poisson e assieme a tutte le altre variabili casuali di tipo discreto e continuo vi lascerò un link in descrizione del video corso di statistica dedicato alle probabilità in cui partiremo in pratica dal concetto di probabilità per poi arrivare quindi ai teoremi delle probabilità totali bias e vedere distribuzioni diciamo di natura quindi discreta come la binomiale la poisson per arrivare al continuo con la normale e alla fine al limite del teorema del limite centrale andate sul sito www.andreailmatematico.it leggete il blog associato a questo per scoprire insomma degli aspetti diversi questo video corso sulle probabilità è il secondo video corso della saga di statistica il primo si occupa della statistica descrittiva mono e bivariata per poi proseguire con tutta la parte relativa alle probabilità e alla fine l'inferenza e i test di ipotesi i prezzi sono veramente accessibili è consigliatissimo associare a ognuno di questi tre corsi e l'eserciziario che comprende tutti gli argomenti con tanti esercizi anche su excel ma anche con esercizi fatti a mano che derivano da tantissime università diverse italiane e anche straniere vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo sempre qui con il vostro andrea al matematico a parlare sempre di statistica e sempre delle probabilità vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo sempre